L'amopolo di Facebook, 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 Instagram, Instagram, ma noi siamo qui al villaggio Coppola con l'amico Gigi, dici qualcosa al popolo, a che sta gente in merda con una schiatta, digelo, digelo, digelo. Siamo sugli scogli, abbiamo fatto una scampagnata sugli scogli, siamo venuti qui in famiglia, guardate qua. Ci siamo a picciare, ci vogliamo dire dove siamo a sabato prossimo, niente ancora perché brava, non gliela diciamo. Ci indosso con la sabato, sabato un grande weekend, poi vi facciamo sapere e vi aggiorniamo con le foto. E voglio dire alle persone che vi vogliono male perché ce ne sono parecchie, c'è una persona in particolare che guarda i miei video. Sghiattare, tutto risolto, alla grande siamo una bomba, non vi facciate la foto, tutto risolto in famiglia. Gigi, come siamo in famiglia? Alla grande? A ciao a te, ciao.